Musica Ultima edizione del nostro telegiornale, buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Tele Molise. Con una determina del direttore generale Massimo Pillarella sono stati prorogati i contratti di collaborazione coordinata e continuativa di 50 esterni in forza alla Regione. Sono stati spesi 251 mila euro per due mesi, un meccanismo, quello delle proroghe, che si rinnova puntualmente ad ogni scadenza generando più di qualche perplessità. Pasquale Di Bello Anche al più esperto degli esploratori risulterebbe difficile districarsi nella giungla dei provvedimenti regionali che vengono sfornati quotidianamente. Uno tra gli ultimi in particolare merita di essere segnalato. La determina numero 499 del direttore generale della Regione Molise Massimo Pillarella adottata il 30 giugno in Soldoni, un provvedimento che costa per due mesi 251 mila euro. Chi volesse capire il giochetto in atto, armato di buona volontà, può fare un salto indietro nel tempo e tornare ad un'altra determina, sempre di Pillarella, la numero 323 del 30 aprile scorso. Bene, sia l'una che l'altra non fanno altro che reiterare e prorogare i contratti di collaborazione coordinate e continuativa di una cinquantina di persone impegnate, recitano entrambi i provvedimenti, nell'attività di assistenza tecnica della Regione Molise sui programmi. Il programma principale a cui si fa riferimento è quell'operativo regionale del Fondo Europeo di Sviluppo. Attraverso una serie di visto considerato letto, accertato, evidenziato, ritenuto e ribadito, queste determine più simili ad un attacco d'asma che a provvedimenti chiari, semplici e comprensibili, non fanno altro che alimentare una precarizzazione del lavoro, prevalentemente giovanile, tenendo sulla corda ogni due o tre mesi i ragazzi in cerca di un'occupazione. La cosa più grave ed inquietante, tuttavia, è che si proceda anche in presenza di elenchi destinati ad una selezione pubblica che nel caso specifico vengono scavalcati. Gli elenchi, guarda caso, sono stati approvati proprio il 30 giugno, lo stesso giorno, in cui sono stati rinnovati i contratti in essere, sostenendo che la mancata proroga avrebbe interrotto le attività in corso e fatto perdere per strada figure già qualificate. A dispetto dei tempi che cambiano e delle facce che li rappresentano, il meccanismo delle infornate regionali sembra piaccia molto al centro-sinistra, alla guida del Molise. I contratti rinnovati scadranno a fine agosto. Vedremo se nel frattempo gli elenchi per la selezione pubblica avranno partorito i nuovi collaboratori o se attraverso qualche altro visto, considerato, letto, accertato, evidenziato, ritenuto e ribadito, salterà fuori qualche altro espediente per rinnovare i contratti rinnovati. Chi volesse divertirsi poi, oltre ad andare da giugno ad aprile, va da ritroso anche a dicembre 2015 alla determina numero 155 che in prossimità del veglione di fine anno, a quel tempo, preparò la stessa zuppa di oggi. Proroghe su proroghe. Con una sua nota, la Direzione Generale della Salute della Regione Molise ha chiarito i pagamenti effettuati a favore di Cattolica e Neuromed. Il riconoscimento dei saldi creditori, scrivono dalla Regione, rappresenta la fine di un percorso che aveva determinato negli anni pregressi l'attivazione di numerosi contenziosi. È stata avviata una minuziosa attività di riconoscimento delle prestazioni ospedaliere di specialistica per ciascun anno contestato, che ha determinato la rinuncia di tutti i contenziosi da parte delle strutture accreditate. Il totale del credito riconosciuto è pari a circa 84 milioni, a fronte di richieste di molto superiori. Basti pensare che una sola struttura pretendeva il riconoscimento di quasi 100 milioni per le prestazioni e gli interessi maturati negli anni pregressi. E non ce l'ha fatta l'uomo di 76 anni, probabilmente avvelenato con la soda caustica mentre era ricoverato al Santissimo Rosario di Venafro. La procura di Sernia ha disposto l'autopsia. Al momento non risultano persone indagate, ma i sospetti degli inquirenti si sarebbero concentrati su una donna. Sergio Di Vincenzo. Sarà l'autopsia a chiarire le cause della morte di Celestino Valentino, il pensionato di 76 anni, originario di Pratella, in provincia di Caserta, deceduto ieri sera all'ospedale di Sernia. Sarebbe stato avvelenato con la soda caustica durante il suo precedente ricovero al Santissimo Rosario di Venafro. Il procuratore capo di Sernia, Paolo Albano, ha confermato di aver disposto l'esame autoptico per togliersi gli ultimi dubbi, ma sulle indagini in corso non ha aggiunto altro, proprio per non compromettere il lavoro fatto finora. Non è ancora chiaro dunque se vi siano o meno delle persone iscritte nel registro degli indagati. Novità in tal senso potrebbero esserci all'inizio della settimana prossima, non prima comunque di conoscere l'esito dell'autopsia. Sembra però che l'inchiesta condotta dai carabinieri abbia già dato dei frutti. Grazie anche alle testimonianze raccolte tra i familiari della vittima, i pazienti e il personale dell'ospedale di Venafro, i sospetti si starebbero concentrando su una donna. Lo scorso 22 giugno il 76enne, ricoverato nel reparto di lungo degenza per via di una malattia invalidante, cominciò a lamentarsi, attirando l'attenzione degli infermieri, quando quella persona uscì dalla sua stanza. Potrebbe essere stata dunque lei a costringerlo a bere la soda caustica, provocandogli quelle ostioni riscontrate alla bocca e alla trachea dopo il trasferimento al veneziale di Sernia, dove, dopo otto giorni di agonia, il suo cuore ha smesso di battere. Ora cambia anche il reato ipotizzato dagli inquirenti, da tentato omicidio a omicidio volontario. Resta tuttavia ancora da capire chi e perché ha voluto riservare una morte così orribile al 76enne. Si parlerà del futuro dell'ospedale di Agnone durante un incontro fissato per domani, a partire dalle 12, tra i tassisti di Roma e la nuova amministrazione comunale della città alto molissana, che proprio oggi ha presentato un esposto in procura. I tassisti originari del Molise e dell'Abruzzo intendono sapere quali sono gli effettivi benefici per il caracciolo alla luce del riconoscimento di ospedale di area disagiata, visto che attualmente nel presidio continuano i disagi a causa della carenza di personale. All'incontro con gli amministratori, in programma nella sede municipale, parteciperanno anche i comitati articolo 32 e il cittadino c'è l'associazione culturale Nuova Villa Canale e Don Francesco Martino, direttore della pastorale diocesana per la salute. I tassisti capitolini non escludono nuove manifestazioni per tenere alta l'attenzione sull'ospedale di Agnone. Lo scorso anno, lo ricorderete, organizzarono due cortei con i taxi e le auto d'epoca, oltre ad una mostra fotografica. Una violenta grandinata si è abbattuta sul Campobasso nel primo pomeriggio, causando allagamenti e problemi al traffico. Diversi gli interventi dei vigili del fuoco. Vediamo. Ormai è diventato un appuntamento quotidiano di quest'estate a Campobasso. Il caldo della mattinata si interrompe all'improvviso e nel pomeriggio il tempo fa le bizze, esibendosi in temporali tuoni e fulmini per qualche ora, per poi tornare in pochi minuti ad alte temperature ed afa. Questo pomeriggio non ha fatto eccezione. Prima qualche lampo è arrivato ad annunciare lo scroscio imminente e poi nel giro di qualche minuto sul capoluogo regionale si è scatenato un temporale torrenziale. Una fitta pioggia, tanto fitta da impedire la visuale a pedoni e automobilisti, è iniziato a cadere insieme a chicchi di grandine grandi anche un paio di centimetri. Dopo qualche minuto le strade di Campobasso erano già piccoli laghi. Chi era a piedi ha dovuto cercare il riparo come meglio poteva in luoghi di fortuna. Le auto procedevano a passo Duomo rallentando e bloccando la circolazione in diversi punti e anche sulle tangenziali. Una città in difficoltà soprattutto nella zona industriale dove sono dovuti intervenire i vigili del fuoco perché molte attività commerciali erano rimaste sommerse. In alcuni punti i tombini ostruiti da foglie e sporcizia non lasciando defluire l'acqua hanno causato la fuoriuscita di liquido fognaro in strada. Nel giro di un'ora e mezza la situazione è tornata lentamente alla normalità. Un nuovo colpo per le speranze di ripresa del polo tessile molisano. Infatti l'ammissar di SPA che aveva annunciato l'intenzione di avviare la produzione delle proprie linee di abbigliamento nella zona industriale di Miranda con il marchio ITR Moda ha rinunciato al suo progetto e ha abbandonato il Molise. Massimo Caluggi ha detto addio al Molise e l'amministratore dell'ammissar di SPA probabilmente a causa dei ritardi nell'attivazione dell'area di crisi ha deciso così di bloccare l'iniziativa industriale che stava portando avanti nella zona di Miranda con il nome di ITR Moda. Si trattava di rioccupare una buona parte degli ex lavoratori ITR almeno quelli forniti delle professionalità più specifiche ma è finito tutto in una bolla di sapone con l'ennesima illusione che svanisce per la ripresa del distretto tessile Isernino. L'ammissar di SPA ha scelto così di lasciare il Molise. L'esperienza isernina di Caluggi era partita giusto un anno fa con la firma del contratto con la Calabrese SRL per il fitto della venidistica struttura di 4.500 metri quadri tutta coperta da pannelli solari e autosufficiente per questo dal punto di vista energetico. Il progetto di Caluggi avrebbe dovuto portare all'iniziale assunzione di circa 50 dipendenti e alla produzione di capi d'abbigliamento finiti e pronti per essere immessi sul mercato. Di chi la responsabilità della rinuncia di Missardi? Nessuno lo dice apertamente ma carte alla mano la regione non ha ancora provveduto a ultimare l'ITER per individuare i 3.000 lavoratori GAMI TR del settore metalmeccanico e dell'indotto da ricollocare. Ad affermarlo è sorprendentemente l'ex assessore regionale al lavoro Petranoia che sollecita la regione ad attivarsi in tempi stretti. Ad oggi, afferma Petraroia, non risultano ancora individuati i nominativi dei 3.000 lavoratori coinvolti e non si può procedere alla convocazione per acquisire la loro predisposizione alla ricollocazione lavorativa, all'autoimbiego o all'incentivo all'esodo per il tramite di un finanziamento personalizzato non inferiore a 30.000 euro a testa per un totale di 90 milioni di euro di incentivi da far inserire nell'accordo di programma col governo. Inoltre, dice sempre Petraroia, gli strumenti di politiche attive del lavoro sono privi di copertura economica nel bilancio della regione e non raggiungono i 10 milioni complessivi nelle misure del POR FSE 2014-2020 a valere per l'intero periodo di programmazione comunitaria e per tutto il territorio regionale. Quel che desta perplessità è il fatto che Petraroia, fino a qualche mese fa, stava proprio nella stanza dei Bottoni, era vicepresidente e assessore al lavoro e avrebbe potuto tranquillamente fare o avviare quello che ora accusa la regione di non aver fatto. Sdoppiamento della personalità o solo un'amnesia? Chissà, ma in Molise siamo abituati a tutto e al contrario di tutto. L'ex assessore regionale Michele Petraroia ha chiesto alla regione copia degli atti del confronto con il Ministero del Lavoro e la Direzione Nazionale, INPS, riguardo il mancato pagamento della mobilità in deroga per il 2015 a 720 lavoratori molisani. Il direttore generale del Ministero del Lavoro, Ugo Menziani, con una nota aveva formalmente autorizzato l'ampliamento di chi aveva diritto agli ammortizzatori per il 2014 dopo la pubblicazione del decreto di riconoscimento dell'area di crisi industriale complessa dello scorso 7 agosto. Secondo Petraroia è urgente attivarsi nei confronti del Governo per sbloccare i pagamenti e dare sollievo a centinaia di famiglie in difficoltà. Scuole sicure va avanti il confronto in Consiglio Comunale a Campobasso a tenere banco la presa di posizione dei geologi che denunciano l'assenza degli studi sui progetti relativi alle due scuole, quelle di via Sant'Antonio dei Lazzari e di via Berlinguer. Ma la risposta dell'amministrazione non si è fatta attendere. Anna Maria Di Matteo. E' sempre il tema della sicurezza degli edifici scolastici a tenere banco a Campobasso. L'argomento è stato nuovamente affrontato nel corso del Consiglio Comunale e convocato per esaminare una serie di mozioni e interrogazioni. Mentre proseguono i lavori per il completamento delle scuole di Sant'Antonio dei Lazzari e di via Berlinguer arriva la presa di posizione dei geologi. Prendendo spunto dalla segnalazione fatta in Consiglio da Simone Cretella dei Cinque Stelle, Domenico Angelone, consigliere nazionale dei geologi, ha sollecitato l'esecuzione degli studi geologici da allegare i progetti delle due nuove strutture. Quegli edifici sono stati realizzati senza alcuna conoscenza geologica, ha denunciato che non riguarda esclusivamente la natura del terreno, ma le possibili evoluzioni di esso. Intanto il sindaco Battista si è detto tranquillo, saranno seguite tutte le procedure per garantire la massima sicurezza. Diciamo subito che in fase di approvazione dei progetti l'obbligo è stato evaso. Tuttavia, se dobbiamo ricercare delle condizioni di maggiore sicurezza, non mi sottrago a questa necessità, anche a questo obbligo, perché il nostro dovere è dare tutte le garanzie possibili all'opinione pubblica, ai bambini, alle famiglie e quanti lavorano all'interno dei nostri edifici scolastici. Facciamo il punto della situazione. Intanto abbiamo fatto grandi investimenti e abbiamo fatto anche notevole programmazione in questa direzione. Quindi abbiamo appostato risorse per costruire nuove scuole, oggi, ora, ma soprattutto anche negli anni a venire. Quindi questo è quello che stiamo facendo. Dopodiché stiamo accelerando nella ultimazione dei lavori degli edifici di Sant'Antonio dei Lazzari e di Via Berlinguer, che dovranno essere la sede della ex scuola elementare di Via Crispi. Poi c'è il caso di Via D'Amato. Cominciamo a dire che la vendita non è legata alle condizioni dell'edificio, o meglio, in chiave futura lo può essere. Abbiamo deciso di vendere quell'edificio per farne uno totalmente nuovo, collocato in altra sede, ma le due azioni sono oggi non legate. Quindi nel frattempo i bambini continueranno a frequentare la scuola regolarmente. Sì, sia chiaro, continueranno a frequentare la scuola di Via D'Amato. E sulla questione delle esumazioni, delle salme, nella nuova parte del cimitero, contestata da diversi cittadini che lì hanno i propri cari sepolti, è intervenuto l'assessore ai lavori pubblici Pietro Maio. Ha detto che si sta lavorando per risolvere qualsiasi tipo di inconveniente. Tonino Danese. Da tempo alcuni cittadini di Campobasso contestano le esumazioni di salme. Nella parte nuova del cimitero hanno evidenziato come il terreno in cui sono sepolti i loro cari non permette la mineralizzazione dei corpi, la decomposizione perché è ricco di acqua e la decisione di rimuoverli, come prevede la legge dopo un certo periodo, secondo loro va rivista per una questione anche igienico-sanitaria. L'assessore ai lavori pubblici Pietro Maio sull'argomento così si è espresso. Ma io ovviamente sono dalla parte dei cittadini, di coloro che hanno lì dei fondi, tant'è che in una recente, un'ultima riunione di commissione lavori pubblici c'è stata ampia discussione su questa materia così particolare che va a toccare le sensibilità di tanti nostri concittadini. Per cui abbiamo dato indicazione unanimemente, quindi all'unanimità, la commissione lavori pubblici ai dirigenti di ripetere un attimino il regolamento che c'è per quanto riguarda le esumazioni e i servizi cimiteriali, di andare a proporre una deroga, cioè di portare da 10 anni a 15 il periodo da tenere lì praticamente le persone inumate. C'è poi la questione dell'ossario, non è in condizioni decorose, ci hanno riferito coloro che devono far trasferire lì i resti dei propri cari estinti. Stiamo facendo gli adempimenti burocratici per sanare quella situazione che c'è, che va risolta. E quindi già io penso che nel giro di una quindicina di giorni risolveremo anche quella cosa che non è una questione dell'oggi, né degli ieri, ma di molti anni fa. Noi ce la siamo posta e intendiamo con la sensibilità che dobbiamo avere, al di là delle posizioni politiche di ciascuno, di chi amministra, la sensibilità per il culto dei morti. L'ambito territoriale e sociale di Campobasso ha pubblicato un avviso per interventi a favore di persone in condizioni di disabilità gravi e gravissime. Il programma della durata di un anno è finalizzato all'assistenza domiciliare a percorsi di apprendimento per favorire l'inclusione sociale di persone che frequentano i centri socio-educativi diurni. I modelli delle domande di ammissione sono reperibili sul sito web del comune di Campobasso. Ed ora andiamo a Venafro per gestire l'enorme debito che grava sulle casse del comune. L'amministrazione Sorbo ha presentato in consiglio un piano di riequilibrio pluriannale che dovrà essere approvato entro il prossimo 30 settembre e che dovrà necessariamente prevedere l'esborso di 700 mila euro per la condanna subita per i lavori della rete fognaria. Sentiamo. Sarà necessario rimodulare il piano finanziario pluriannale del comune di Venafro anche a causa della condanna recentemente subita dall'amministrazione per i 700 mila euro relativi ai lavori della rete fognaria. Si tratta ebbene specificarlo di un contenzioso ereditato dalla giunta Sorbo e risalente alle passate amministrazioni ma anche se l'attuale esecutivo non ha alcuna responsabilità quei soldi vanno pagati insieme a quelli già in conto per il contenzioso con Moliseacque e anche qui parliamo dei guai ereditati dal passato. Il tutto va fatto entro il prossimo 30 settembre. Come sappiamo si tratta di una scelta che questa amministrazione anche se a malincuore è stata costretta ad assumere ormai due anni fa per far fronte ai buchi di bilancio che ci eravamo ritrovati dopo anni di male amministrazione per rispondere soprattutto a delle richieste pressanti che provenivano dalla Corte dei Conti. È un piano quello approvato nel corso del 2014 rispetto al quale a dire il vero ad oggi ancora non c'è giunta una risposta definitiva dagli organi competenti in ordine all'approvazione però ad ogni modo noi siamo in quel filone di procedura in realtà stiamo valutando anche l'assessore Putena in prima linea su questo l'andamento dei conti che potrebbe anche portare a delle scelte importanti nei prossimi mesi ad oggi però noi siamo in quella procedura e quindi proprio tenendo conto della situazione dei conti che è sicuramente migliorata grazie agli sforzi che abbiamo compiuto insieme all'intera città è inutile nasconderlo siamo fiduciosi sul fatto che oggi con questa rimodulazione si possa alleviare anche il peso nei prossimi anni. la confcommercio organizza il corso per diventare steward di stadi con il patrocinio della regione della provincia del comune della società sportiva dilettantistica città di Campobasso sentiamo Patrizia Testa gestire l'impianto sportivo le tifoserie controllare i biglietti e gli spettatori al fine di prevenire ogni tipo di atto vandalico o violento queste le funzioni di uno steward di stadi un mestiere nuovo che si sta facendo sempre più strada in Italia negli ultimi anni anche il Molise si adegua alle attuali esigenze del mercato del lavoro ed ecco il primo corso regionale per gli addetti al controllo nelle strutture sportive l'iniziativa è della confcommercio il percorso di studi si rivolge ad occupati disoccupati e agli inoccupati che vogliono fare della propria passione per il calcio un lavoro o più semplicemente per chi vuole ampliare le proprie competenze il corso durerà 42 ore diversi gli argomenti che saranno affrontati ordine pubblico sicurezza sanitaria e antincendio un modulo dedicato alla parte tecnico sportiva ma anche esercitazioni pratiche durante le partite e simulazioni in aula di possibili criticità che possono verificarsi durante il servizio le iscrizioni sono aperte il termine ultimo è fissato per il primo agosto il costo a persona è di 200 euro IVA inclusa alla fine delle 42 ore i partecipanti dovranno superare un test per diventare così steward di stadi la lettura può diventare uno strumento di integrazione tra culture a termoli è riuscita l'iniziativa che ha visto come protagonisti gli ospiti del progetto SPRAR e gli utenti del centro di salute mentale ce ne parla Fabrizio Occhioner una rete di esperienze che punta a migliorare la qualità dei servizi ad offrire nuovi spazi di incontro e arricchimento culturale la lettura come motore di un'iniziativa di integrazione condivisa dal centro di urno che senso ha dal progetto SPRAR e dall'associazione La Casa del Libro con il patrocinio del comune di Termoli un percorso che ha visto protagonisti gli utenti del centro e gli ospiti del sistema di accoglienza l'obiettivo è quello di promuovere l'amore per la lettura naturalmente nell'arco di questi mesi i partecipanti hanno avuto modo di confrontarsi e di conoscersi portando un po' quelle che sono le loro esperienze i loro punti di vista All'evento organizzato al MACT di Termoli e sintesi di un lavoro durato otto mesi sono intervenuti tra gli altri il direttore del centro di salute mentale Angelo Malinconico l'assessore alle politiche sociali Maria Chimisso e i rappresentanti delle varie realtà coinvolte nel progetto La scelta di letture appunto condivise con loro e con gli operatori e la condivisione del senso e ciò che suscitava in loro queste tipologie di storie che sono state scelte Un club psicoletterario ma anche altre iniziative come un concorso e un opuscolo con la raccolta di elaborati prodotti dagli utenti e dagli operatori Si sono integrati hanno incominciato anche loro ad associarsi a scambiare libri e alla fine tutto si è concluso con il concorso Descrivere l'Invisibile che è molto interessante e per l'argomento che riguardava molto da vicino tutto il tema trattato ma anche perché i ragazzi sono stati messi nelle condizioni di essere giudici di alcune opere quindi leggere e dare un giudizio un percorso che ha che è finito nella maniera più giusta e ha decretato il successo dell'iniziativa Mattia Scipione si è giudicato il concorso con il testo Come piume sul mare premio speciale dedicato a Dario Gambieri per Jennifer Di Giovine con una poesia Ed è tutto per questa ultima edizione del nostro telegiornale grazie per averci preferito a tutti voi una cordiale buonanotte Grazie a tutti